Dicevo che però dipende dal grigio perché se tu il grigio lo abbini al bianco nonostante il bianco è tipo da evitare il grigio uguale però se tu abbini questi due colori in un ambiente di casa calda quindi col termosifone nel senso e tu metti un bel grigio topo un bel grigio, grigio pieno, grigio profondo e lo abbini al bianco, allora lì è rilassante e magari se metti anche un bel divano